allora com'è sto completo? me lo fate vedere? si mette questo che poi lo può utilizzare questo che prezzo ha per esempio? questo è 19,99 guardate che meraviglia il giubbotto che già l'abbiamo fatto vedere e questi sono 12 euro ragazzi vabbè non diciamo i prezzi tu ci devi dire poi a lei ho speso 200 euro per questo completo ah perché mica me le deve dare lei a me? che c'entra? ma che c'è qua dentro? ma che c'è qua dentro? ma che è? ma che è c'è un centro estetico dentro il negozio? che ci puoi portare a tua figlia? allora signorina io devo dire una cosa mia figlia ha un problema oddio non è proprio un problema perché è nello sviluppo è nello sviluppo a 9 anni ha preso dalla mamma dalla mia ex moglie è un pochino pelosetta lei ce la può fare una bella ceretta integrale perché parte dalle sopracciglia fino ai piedi c'ha anche le dita dei piedi peloschi no no è da buccare quella bambina l'arango quindi oltre abbigliamento venite qui si trova a Catania in via Garibaldi 218 trovate anche il centro estetico qua dentro ragazzi cosa fate? cosa fate? manicure? manicure, pedicure, montaggio ciglia montaggio ciglia? per la mia ex moglie cerette, unghie, sopracciglia no, perché se non conosco figlia non ti lega la porta no, buon venire, facciamo un pochino però tu puoi chiudere una settimana perché non prendere appunto bene la sua figlia stai cercando a casa tutto è all'occhio è proprio da rifare ma io qua sto vedendo poi la settimana non prendere appunto ma io sto vedendo anche make up sto vedendo profumi no, vabbè vabbè, un profumo per la mia ex moglie io lo devo regalare a Agni questo vabbè ragazzi qui come vedete c'è jeanseria ci sono maglie ci sono chissaccio no, vabbè ci sono cardigan guarda che bello 9,99 fantastico come cardigan e come copricostume guarda ah, copricostume scelto il manichino ah, il manichino quello che vi ho fatto vedere prima allora guarda che meraviglia scelto ma già c'è ma chi puttava tu hai puttato in altri colori no, non c'entra stanno facendo vedere nel manichino cioè tua moglie non sarà così ovviamente no è più prosperosa forse ce ne devi comprare tu a tra poco a tra poco no, vabbè grazie a tutti